Fin dalla mia prima pratica ho percepito una trasformazione in atto. Il tappetino è divenuto per me un luogo di quiete, uno strumento di confronto, un mezzo per conoscermi in profondità. Cosicché ogni volta che termino la mia pratica mi sento pronto ad affrontare ogni sfida della vita, con coraggio ed entusiasmo. Matthew Ken nasce dall'idea di rendere il benessere di mente e corpo alla portata di tutti, in ogni momento e in ogni luogo. Da oggi con Matthew Ken puoi conquistare anche tu un corpo flessibile e forte e una mente stabile e calma. Registrandoti su Matthew Ken potrai scegliere lezioni altamente professionali e praticare comodamente ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo elettronico. Benvenuti a questa classe di Odaka Yoga. Namaste. Il tendenne si estende ed espande. Keep extending and expanding. Quando arriviamo in questa posizione ti lascia posare. Spandi il torace di sinistra verso l'alto, ruoti. Sono a diagonale che collega la scapola del braccio che sollevi. Scegli le lezioni di yoga o pilates e le serie che più si addicono al tuo livello di preparazione fisica, al tema che stai cercando e alla durata in funzione del tempo che hai a disposizione. Quindi non ti resta che iscriverti, selezionare la formula che più si addice alle tue esigenze, sdrotolare il tappetino e iniziare il tuo viaggio.